Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Come state innanzitutto? È passate due settimane, abbiamo fatto un attimo di pausa, ma sono le ultime puntate della stagione, quindi ci può stare. Poi c'è sto caldo che non ci permette di lavorare. Benissimo, oggi di che cosa parliamo? Oggi vogliamo un attimo spaziare, prendere un attimo di fiato in questa parte finale della stagione e oggi parleremo di astrofotografia. Ma prima di presentarvi l'ospite di oggi, il mio co-conduttore, io direi che è l'ora della sigla. Allora, allora, chi abbiamo oggi in studio, direi di partire dall'ospite, anche perché il conduttore lo conoscete già, ormai è ospite di casa, già dalla voce, io direi di presentare abbiamo Luca Fornacciari, astrofotografo di Maranello, quindi qua di fianco. Qua vicinissimo, ciao, ciao a tutti. Mi fa molto piacere anzi, averti qua in studio, anche se c'erano stati dei tentativi di fare da casa, ma mi fa piacere avervi qua tutti e due, soprattutto anche il mio co-conduttore, Samuele Faglioni. Ciao di nuovo, ciao a tutti. Che arrivi direttamente da Trieste. Da oltreoceano. No, da oltreoceano, è una mezza pozzangra all'Adriatico, quindi non è che proprio... Da oltretutto, perché è tipo un'isola sommersa nello spazio. Eh, già poesia qui, mi piace, mi piace. No, comunque, prima ti ho interrotto, scusa, stavi salutando i nostri ascoltatori. No, comunque, mi fa piacere averti qua. Ma fa piacere anche a me, ti ringrazio per l'invito di persona, anche perché di isolamento ne abbiamo fatto abbastanza in questi ultimi anni, quindi è meglio replicare eventi dove si incontrino persone vere. E poi è anche più bello. Sì, più bello, sì. Allora, io come prima domanda ho pensato proprio alla classica domanda più banale possibile che mi venisse in mente, ovvero come è cominciata questa tua avventura con l'astronomia. Perché facendo un'intervista con Bini, fatta qualche tempo fa, mi ha raccontato una storia, ma volevo sapere da te se per caso c'erano qualche altre retroscena. Perché io la storia che mi ha raccontato mi piaceva. Dopo, casomai, ti dico quello che mi ha detto. Ma lo so che cosa ti ha detto probabilmente, ed è già una storia che posso confermare. Dunque, la mia passione per l'astronomia è partita da ragazzo, da bambino, come parte a molti bambini che ricevono o ricevevano, speriamo ancora adesso, intorno a quella fascia d'età sensibile dei 8-12 anni, il primo telescopietto di plastica con i vetri in modalità fondo di bottiglia. Non telescopio ma binocolo, sì. Sì, sì, ma era proprio un telescopietto. Era un tubino lungo, un rifrattorino molto economico, che però ovviamente a quell'età... Era bellissimo, era la cosa più bella. Molto meno esposti a... Beh, il PC non c'era, il social nemmeno. Lo smartphone non... Non sei un dinosauro come vuoi far credere. No, però era comunque quando ero ragazzino, insomma, si parla dei primi anni 90, e perciò eri anche meno esposto a tutti quegli oggetti del cosmo che oggi vedi replicate in qualsiasi contesto mediatico, e quindi la scoperta di poter osservare un telescopietto anche economico, la luna e qualche pianeta, perché figurati, con quello strumento si poteva fare poco, però è stato sorprendente. A quell'età vale doppio. In quel momento dove ancora proprio anche quei contenuti visivamente non li si vedeva poi da nessun'altra parte, ancora di più. Sì, diciamo che adesso le immagini che puoi trovare in generale hanno alzato un po' l'aspettativa di... Molto. ...quanto qualcuno guarda all'interno di un telescopio, però nel senso io mi ricordo che la prima volta che guardai dentro un telescopio rimasi comunque abbastanza affascinato banalmente al vedere la luna, ok? Che è una cosa che si vede praticamente dappertutto, però al telescopio è un'altra cosa. In effetti se ci pensi, i ragazzini oggi vedono film e qualsiasi contenuto dove i pianeti sono rappresentati e lo spazio è rappresentato in un modo che è straordinario. Quando ero bambino io, fatta eccezione per Guerre Stellari e pochi altri esempi di classe, probabilmente la luna la vedevo meglio il telescopietto economico di come veniva rappresentata nei film dell'epoca, e quindi no, è stata una bellissima... La mia curiosità è iniziata lì, non ne ho fatto un mestiere, ma è rimasta una passione e poi però sempre da... Fin da ragazzo ho seguito la professione di mio padre, che fa il fotografo, aiutandolo, insomma, nei suoi servizi fotografici e acquisendo anche quella parte lì come passione, come parte della mia vita, posticipando entrambi gli argomenti poi dopo con un salto temporale di tantissimi anni, perché mi sono poi riavvicinato all'astronomia collegandole la fotografia tanti anni più tardi, dove appunto Roberto ti avrà raccontato il nostro incontro... Che ti ha chiesto un cavo, io mi ricordo questo cavo, non mi ricordo che tipo di cavo, però che è entrato nel tuo... nel tuo... come sei... Oddio, non mi viene la parola, in un podcast non mi viene la parola, nel tuo... Aiutami! Non ho capito cosa vuoi dire. Tu mi vendi in tuo negozio, ok, di elettronica, perfetto, tu un negozio di elettronica chiedendoti questo cavo e poi siete finiti a parlare e ti ha ricondotto direttamente. Per i primi anni di lavoro mi sono occupato di consulenza informatica e quindi incontro Roberto e mi viene a chiedere un cavo crimpato stranissimo. Sì, me l'ha detto che ce l'ha ancora, è all'attore del Gagba. Borchia Ethernet, per intenderci, ma montato in un modo completamente anomalo e quindi gli chiesi a che cavolo gli servisse un cavo così strano. E così scoprì che serviva per il telescopio dell'Associazione Astrofili di Modena e da lì partita la frequentazione, partito l'embolo. La degenerazione totale. Ecco, e da lì dopo ho frequentato in effetti tanti anni, tanti nel senso che di solito rischio anch'io sempre un po' l'acquisto impulsivo di varie cose che mi incuriosiscono. Lì aspettai diversi anni prima di acquistare la strumentazione per me perché l'astronomia amatoriale ha un sacco di strumenti e di sottodiscipline di varietà differenti e quindi che richiedono strumenti diversi e quindi mi sono fatto un po' di esperienza, un po' di idee lì in associazione Astrofili che ancora frequento prima di acquistare poi il primo setup mio e iniziare ad avvicinarmi così alla fotografia astronomica. Ma tipo vabbè qua ci stai parlando un attimo di come ti sei avvicinato sostanzialmente al mondo però quando hai capito che questo effettivamente mondo doveva essere il tuo oltre la tua passione ma anche il tuo impiego nella giornata più grande quando hai capito che sia c'era la possibilità di farlo e in un qualche modo anche guadagnarci sopra perché sembra un po' strano però in teoria si può fare lo si può fare e quando è proprio il momento in cui tu hai detto ok sono pronto per lasciare tutto e dedicarmi completamente a questa cosa. Ma in realtà non mi dedico unicamente a questo però è stato un insieme di cose io mi sono poi dedicato all'abito grafico per tutti gli anni successivi di lavoro ho 38 anni quindi già una ventina di anni che lavoro circa un po' di di così di esperienza progressa me la sono fatta e in effetti a merito della fotografia astronomica probabilmente il fatto che poi abbia cambiato professione perché iniziando a pubblicare le mie immagini di astrofotografia a parlarne su youtube e sui vari social network senza dar peso troppo alla cosa partito in un modo molto ingenuo e senza nessuna strategia particolare sotto ho poi iniziato a fare diverse conferenze divulgative e mi sono accorto che mi piaceva moltissimo parlare in pubblico e seguire quella parte dove potevo costruire dei contenuti raccontarli eccetera contemporaneamente inizio nel tempo libero a organizzare corsi di grafica e di fotografia fuori dal dal mio diciamo lavoro da dipendente tradizionale è stato un po' un insieme di cose che alla fine mi ha portato a decidere di mettermi libera professione per fare il formatore quindi oggi si guadagno anche dall'astrofotografia perché una parte della mia formazione mi viene richiesta che siano aule o siano singoli individui o anche aziende sul tema che giro attorno all'astronomia amatoriale e all'astrofotografia però in realtà poi appunto il mio mestiere dove mi occupo di insegnare sostanzialmente gli aspetti della grafica e della fotografia in generale è quindi di più ampio respiro insomma ecco comunque tu adesso attualmente ora è da un po' che effettivamente noi non ci sentiamo quindi ho un po' perso le tue tracce sotto questo punto di vista serve anche per ritrovarsi questo mi piace è chiaro però ho visto comunque che i tuoi lavori anche sui social eccetera ti hanno permesso di creare una community che ti sta dietro e in un qualche modo sta dietro a tutto a quella che è la tua passione ancora certo per questo cioè tu alla fine adesso sei diventato una sorta di una delle tante bandiere dell'astrofotografia sì sì ce ne sono ci sono molte bandiere senz'altro c'è molto interesse attorno a questa disciplina l'interesse è sempre molto crescente con tutti i pro e i contro ho contribuito ho cercato di contribuire il più possibile proprio alla diffusione di questo genere fotografico perché per me è uno stile di vita lo scrivo lo ripeto spesso ma ci credo veramente nel senso che a me ha cambiato il modo di vivere il modo in cui vivo quotidianamente la mia vita fare fotografia astronomica e quindi certo ho creato all'epoca dal canale youtube hanno iniziato a nascere le prime sono iniziati a nascere le prime community social comunque costruite attorno a quel progetto di youtube da lì la goccia si è allargata creando almeno per un buon periodo delle delle comunità che molto solide che raccoglievano tantissimi interessati tantissime persone e che fino a quel momento almeno sulle piattaforme un pochino più moderne tra telegram facebook youtube non si erano viste in italia certo è nato veramente per caso effettivamente che non c'è mai stata una strategia dietro di brand del tipo mi metto qui e penso come cioè quali siano i pezzi per costruire una community sul web non è mai andata in questo modo infatti mi sono sempre comportato un po' a casaccio aggiustando il tiro quando serviva perché in realtà è sempre stata la passione e la mia necessità di voler raccontare qualcosa che avevo magari imparato a fare a portarmi alla produzione di contenuti non il contrario non la necessità di doverli produrre però diciamo che comunque anche la tua tra virgolette definiamola una vittoria perché io la vedo così dovuta anche chiaramente al fatto della cioè che sei bravo in quello che fai altrimenti secondo te hai mai pensato cosa può suscitare in qualcuno che guarda o che ha magari visto un tuo video e dire ok mi interesso a questa cosa nel senso qual è la scintilla magari anche perché io non ho idea di come sia formata cioè di che range d'età abbia una community del genere però mi immagino che alla fine tutto sia mossa dalla curiosità di qualcosa di non visto cioè che non si può vedere tutti i giorni no sì è una passione di nicchia in quanto tale attira persone un po' che magari provengono da strade differenti e arrivano magari all'astrofotografia per motivi diversi da una parte è sempre più crescente il fotografo che arriva all'astrofotografia e alla fotografia notturna questo merito senz'altro dei ritrovati moderni tecnologici che hanno abbattuto i costi e aumentato il livello dei risultati in un modo eccezionale anche banalmente con uno smartphone riesci a fare sì beh ecco certo anche la vera e propria fotografia astronomica dove puoi produrre delle immagini che fino a 20 anni fa erano probabilmente all'apice delle capacità della nostra civiltà oggi le fai dopo due settimane che ti sei visto qualche video letto qualche articolo acquistata la tua strumentazione e davvero oggi ottieni dei risultati subito che certo sono comunque lo stesso inizio di un percorso che è molto lungo la fotografia notturna di per sé è ostica cioè è una delle ambientazioni più difficili della fotografia digitale ovviamente ci servono fotoni di notte un po' di musica quindi è comunque un percorso lungo però oggi estremamente avantaggiato dai ritrovati quindi tecnologici quindi molti fotografi arrivano a scoprire la fotografia notturna avendo magari anche già provato tante altre cose nel loro percorso e ci arrivano invece anche magari tanti astronomi appassionati direttanti quindi dalla passione più per l'astrofilia l'astronomia che decidono di voler imparare a fotografare per realizzare quelle immagini c'è dietro sicuramente tanto la curiosità di riuscire a vedere qualcosa che effettivamente forse non potremo neanche mai esplorare di persona raggiungere non lo so a meno che non vi inventate qualcosa voi due non lo vedo nel prossimo futuro ecco perfetto e quindi senz'altro possiamo fare qualcosa di straordinario che non era possibile fare fino a pochi anni fa si può fare astrofotografia digitale e prima lo si faceva in pellicola da tanti anni ma è l'accessibilità a dei risultati ottimi che è cambiata nel tempo cioè davvero adesso si riesce a produrre un livello mediocre discreto sufficiente di qualità con grande facilità e quindi questo la resa accessibile a tantissime persone volendo chiunque potrebbe diventare un astrofotografo senz'altro questo si questo questo si a parte i soldi chiaramente perché sia comunque un investimento farlo però non lo so perché ci stavo pensando qualche puntata fa a proposito di tutti possono diventare astrofotografi mi viene in mente ok attualmente c'è una grande capacità appunto la strumentazione ci permette di ottenere ottimi risultati mi viene in mente però all'inizio dell'ottocento inizio ottocento no inizio novecento fino a ottocento con le lastre fotografiche e le primi daguerotibi che si provano anche ad osservare la luna che c'erano proprio i tra virgolette i trucchi del mestiere cioè alcuni che mettevano ad esempio mi viene in mente forse Hubble o altri che mettevano le lastre nel forno perché così avevano capito che riuscivano ad ottenere una resa migliore da quelle lastre da centro altri invece che le mettevano nel ghiaccio insomma ci sono tutti quei trick un pochino del mestiere diciamo che ti puoi secondo me approcciare però ti chiedo attualmente ci sono ancora dei trick che riesci a utilizzare anche per quella che possiamo chiamare se vogliamo esperienza quella che si crea proprio così mentre produci la foto ma c'è tanto di questo in generale nella comprensione moderna della fotografia digitale che si porta dietro tante anche falsi miti dalla fotografia analogica a comunque un grande un grande elenco di cose più o meno articolate da incastrare da studiare da capire da far funzionare per ottenere dei risultati migliori e ripeto quando andiamo in un contesto notturno di fotografia digitale lì siamo proprio obbligati se vogliamo raggiungere un certo livello di risultato a studiare a capire bene come funziona lo strumento che abbiamo in mano quindi c'è da studiare tanto ma è il motivo semplice per cui restano sempre valide entrambe le strade dell'amatore che impara tutto provando con guide con filmati con prove errori con il confronto con gli amici così però può anche essere giustificabile e verosimile un percorso di studio proprio formativo su questo genere come è valido anche in qualsiasi altro in qualsiasi altra disciplina fotografica e quindi sì c'è tantissimo da imparare io che dedico una grossa parte della mia passione per la fotografia allo studio cioè anche per capire come insegnarla meglio ma soprattutto anche per capire di più di quello che già so mi rendo conto ogni anno che non ho capito niente e resetto e ricostruisco e riparto perché comunque è una disciplina molto 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 complessa e multidisciplinare soprattutto esatto io la vedo anche molto come infieri cioè si sta proprio facendo questa anche io studiandola mi rendo conto che ok più faccio più studio per un esame meno cose di quella materia mi rendo conto di sapere infatti una domanda che proprio ti volevo fare e che su cui mi hai anticipato è quanto tra virgolette l'astrofotografia ti ha influenzato nello studio dell'astronomia o quanto invece l'inverso cioè quanto ti ha spinto a conoscere ad esempio come funzionano le stelle come mettono una galassia perché ascoltando qualche tua intervista mi sono studiato un pochino e qua ti ho sentito parlare ad esempio della riga H alfa delle nebulose oscure assorbono e mettono maggiormente nell'inferrosso tutte cose che comunque a mia impressione hanno cedito un forte studio quindi casomai anche quanto sei rimasto tra virgolette appassionato di questo studio tantissimo da un lato necessario per capire come fare foto perché in base all'oggetto astronomico che si vuole scattare ci sono da conoscere una serie di caratteristiche che ti permettono di fare le giuste scelte proprio tecniche di acquisizione per ottenere una foto migliore dall'altra proprio la curiosità man mano che cominci a capire un po' quello che ci circonda nella varietà che ti presenta di scegliersi gli oggetti in base alla tua passione orientarsi anche proprio su una tipologia particolare di oggetti che ti appassiona più di altri per me ad esempio sono le nebulose planetarie tutto il ciclo stellare mi appassiona tanto e le nebulose planetarie di per sé che sono oggetti ovviamente scelto quelli più difficili ovviamente e inaccessibili perché prevedono sempre grosse montature lunghe focali infatti in gran parte ancora devo arrivarci a strumenti più più importanti anche di quelli che mi auguro anche potrò magari avere in futuro quindi tantissimo mi ha fatto molto speciale infatti ti volevo fare anche una domanda se tra nebulose cosa ti ispirava di più tra nebulose planetarie o appunto nebulose tra virgolette anche galassie quelle che venivano chiamate all'inizio galassie nebulose che poi all'interno della classe delle nebulose rientravano le galassie che tuttora non c'è una definizione chiara di che cos'è una galassie ma questo fa andare fuori di testa perché io adoro le galassie quindi vabbè questo è un altro discorso quindi queste cose che non hanno definizioni questi oggetti reali che non puoi definire abbiamo una serie di building block delle galassie però non c'è una definizione chiara di che cos'è una galassie a me questo mi appassiona è interessante però certe volte avrei bisogno tipo ok quella è una galassia adesso riusciamo a definirle meglio ma vabbè però mi fa ridere seguendo anche i video che hai fatto sulla storia delle nebulose mi ritorno in mente alcune lezioni che ho fatto che appunto all'inizio tutte erano nebulose soltanto perché appunto c'era questa luce diffusa nel cielo e successivamente soltanto dopo sono diventate galassie quando siamo riusciti ad andare a vedere quindi questo mi è rimasto però appunto quindi la risposta alla domanda che ti volevo fare me l'hai già dato ovvero nebulose planetarie sì sono arrivato alla fotografia astronomica con l'idea di fotografare la testa di cavallo che di suo è un'oscura però spesso diciamo quasi tradotta come nebulosa emissione perché poi la vediamo per quella coperta di idrogeno ionizzato a calfa che ha alle spalle e che ci permette di vederla per contrasto le nebulose diffuse le nebulose emissione sono gli oggetti più vistosi più grandi proprio in senso angolare cioè dal nostro punto di osservazione sono quelli più grandi nel cielo che chiunque si avvicini forse alla fotografia astronomica vuole fotografare sono anche forse i più accessibili più semplici tra virgolette nella complessità dell'astrofotografia e quelli da cui ti puoi permettere di scattare su cui ti puoi permettere di scattare un po' dappertutto anche da cieli un pochino più inquinati dove invece le galassie spesso richiedono sempre cieli molto puliti quindi quello è stato una bella molla di partenza senz'altro e sono oggetti che attirano qualsiasi principianti all'inizio sono molto belli molto spettacolari poi però ti appassioni a certe tematiche piuttosto che ad altre mi interessa molto la parte appunto il ciclo di vita stellare incluse anche eventi di supernova e tutto quello che infatti scusa vai vai ok io ti volevo che altro chiedere perché sono totalmente esterno a questa cosa nel senso che completamente ignorante ma frequentando comunque l'ambiente degli astrofili comunque ho iniziato a guardarli un po' intorno ed effettivamente cioè quando tu parli di una fotografia astronomica non ci si deve immaginare un telescopio ci butto dentro la macchina fotografica scato una foto e quella è a posto cioè è un processo molto molto lungo sia di acquisizione dell'immagine proprio e sia di editing poi successivo assolutamente quindi com'è che si arriva ad avere una fotografia di deep sky per esempio oppure di oggetti un po' più facili da maneggiare con un sacco di sacrificio assolutamente però c'è proprio a livello tecnico molta perseveranza no a livello tecnico intanto parti sempre da un negativo digitale il negativo non è morto con la pellicola la fotografia digitale prevede ancora un negativo un RAW che va sviluppato e che quindi quando lo guardi non ti presenta l'aspetto di un'immagine finita anzi il RAW di fatto non è nemmeno un'immagine e quindi c'è una serie di procedure per trattare il negativo digitale astronomico e poi successivamente svilupparlo che è ulteriormente proprio cucita attorno a questa particolare disciplina fotografica quindi non utilizzi i software tradizionali che utilizzi nella fotografia generale per sviluppare i negativi tipo camera roll lightroom i vari software dove apri lo scatto della macchina fotografica e lo sviluppi ci sono software più portati più orientati con tool strumenti specifici per il trattamento di queste immagini che sono molto particolari dopodiché si fa dopo una volta sviluppata l'immagine si è già all'80% del risultato si fa un po' di post produzione che un pochino è diciamo lo sprint fotografico dove puoi insomma seguendo un po' la tua forma artistica insomma la tua identità artistica contrasto più o meno intensità di colori più o meno quella è un po' la licenza artistica che si tiene ogni fotografo certo quindi funziona lato pc in questo modo lato acquisizione mille ore di immagini tutte uguali da fare sullo stesso soggetto per poter ottenere qualcosa che sia bello da vedere perché chiaramente la sua debolezza intrinseca ci obbliga a fare tantissime fotografie fotografare per esempio un fiore una natura oggetti naturali o comunque roba che si vede che si vede sulla terra molto più semplice riguardo a questo punto di vista perché l'esposizione che devi dare a un'immagine non è così larga perché la luce ci arriva direttamente giusto si proprio è una questione di quantità proprio di fotoni emessi o riflessi in quantità abbondante permettono ai sensori moderni che abbiamo di poter realizzare un buon surrogato della realtà una buona versione digitale in pochi istanti centesimi millesimi di secondo decimi al massimo però di notte questa questa problematica di una mancanza palese di fotoni o di una scarsità e chiaramente ci richiede di fare scatti molto lunghi e non basta nemmeno un singolo scatto lungo serve farne tanti tutti uguali che poi vengono diciamo integrati sommati in un'immagine finale che è il nostro vero row di partenza è già il risultato di magari 10-15 ore diverse somme certo quindi per ottenere un dettaglio ci vogliono molto molte molte più ore di lavoro insomma a livello di fotografia proprio rispetto alla fotografia tradizionale senz'altro poi dipende sempre da tante condizioni perché dipende dallo strumento che hai intendo tutto il setup dall'ottica al sensore ma dipende tantissimo dal cielo dalla qualità del cielo la fotografia astronomica di profondo cielo quella di cui mi occupo principalmente io quindi galassie nebulose massi stellari planetarie dipende è fortemente dipendente dalla inversamente dipende dalla quantità di inquinamento artificiale che produciamo di notte quindi diciamo che Maranello forse non è proprio la situazione potrebbe non essere il posto ideale potrebbe non essere il posto ideale sì allora credo ci siano anche leggi per l'Emilia Romagna particolari per per l'orientamento corretto delle luci e in generale un tentativo di controllo dell'inquinamento luminoso ma non c'è solo quello poi tra l'altro c'è anche nel senso quando devi acquisire tanto dettaglio immagino che anche tutta l'atmosfera faccia tanto gioco sì l'atmosfera un po' incide in realtà perché devi sempre immaginare di guardare un'immagine sul fondo di una piscina tu sei all'esterno a seconda di quanto l'acqua è mossa riesci a percepire dettagli più o meno piccoli ok è un po' questo l'effetto dell'atmosfera però la realtà di fatti diciamo che rispetto all'imaging planetario che è un'altra disciplina di astrofotografia dove ti dedichi a fotografare pianeti del nostro sistema solare la luna e lì nonostante sembrino siano per noi oggetti più vicini in realtà sono molto piccoli e serve più potenza più la parola non è corretta ingrandire non è la parola corretta però la uso per far capire serve ingrandire tantissimo diciamo su Marte su Giove ecco in quel caso quello che vogliamo campionare è un dettaglio piccolissimo e lì l'acqua della piscina anche se è leggermente mossa comunque incide tanto nella sua capacità di disperdere un segnale molto fino un dettaglio molto fine che vogliamo acquisire quello di cui spesso non ci si rende conto è che l'estensione nel cielo apparente degli oggetti invece Deep Sky è enorme ho fatto un progetto quest'anno per gioco perché ovviamente sono fotomontaggi quindi non volevano avere un'attinenza realistica ma ho incollato la luna in scala su delle immagini Deep Sky per far vedere quanto sarebbero estese se le potessimo vedere occhio nudo nel cielo per far vedere che la maggior parte delle nebulose che scattiamo sono gigantesche dal nostro punto di osservazione sono gigantesche in ogni caso però dal nostro punto di osservazione quindi in realtà il cielo si fa la turbolenza fa non è determinante come nell'imaging planetario perché comunque il dettaglio anche fine che vogliamo acquisire comunque è un po' più grossino di più delle volte poi anche qua dipende perché ovviamente dipende sempre da che cosa stiamo scattando da che livello di dettaglio desideriamo senz'altro incide anche quello però nel Deep Sky senz'altro è molto più invasivo e determinante di inquinamento artificiale di non stiamo lavorando benissimo diciamo in Italia poi in pianura padana ancora poi tu hai il tuo il tuo bel prefabbricato in mezzo al nulla quindi sei a posto ma non tanto perché in mezzo al nulla un po' l'abitudine è quella per illuminare il giardino di puntare un faro verso lo zenith che riesca a coprire comunque così un'angolazione di 360 gradi una sfera ma guarda rido perché questa notte io e Valentina e mia compagna andavamo a fotografare una cella di temporalesca pazzesca che quella che ieri sera si vedeva fare tutti i tuoni tutti i lampi ok perfetto davvero in su ha coperto qualche centinaio di chilometri credo ora abbiamo fatto questa fotografia a questa cella temporalesca andando in collina alzandoci 500 metri ok e mentre la nostra casa è un centinaio di metri facciamo questa facciamo questa fotografia sopra si vedono le nuvole con la cella temporalesca sotto c'è la città i nostri paesi i nostri paesini e è stato bellissimo vedere che a 500 alzandomi di 500 metri io si vede bene nella fotografia sono ancora abbagliato esattamente proprio cioè mi colpisce direttamente dritto tutta quella serie di fari che illumina a giorno anche il mio giardino di notte ovviamente io sono quasi a livello del mare insomma sono alla stessa altezza non tanto a livello del mare ma alla stessa altezza di questi fari ecco a 500 metri in alto ti puntano ancora negli occhi quindi non so questo è un po' il problema diffuso del inquinamento luminoso qui da noi ho avuto un'esperienza simile perché uno o due anni fa penso durante la pandemia vivo anche io in aperta campagna il problema è che di fianco a me ho qualche aperta campagna o qualche fabbrica cioè comunque uno o due chilometri in là il problema è che ero da solo in aperta campagna a un certo punto sento patto si accendono tutte le luci io mi trovo praticamente in mezzo a tutta la luce perché ha saltato l'allarme di quella cosa là che hanno acceso tutti i fari da stadio praticamente quindi mi hanno acceccato in quel momento e quindi posso capire questa cosa effettivamente oltre al fatto di girare in mezzo ai serpenti o topi come è successo purtroppo tempo fa ma è quella è un'esperienza particolare quando ho acceso la luce per vedere cos'è che si stesse muovendo nell'ombra nel buio della campagna mi sono trovato una bici ho detto vabbè è ora di fare sul mio telescopio e andare a casa io ne avevo una che viveva dentro il mio osservatorio se vuoi venire a fare un giro al carsega ti garantisco che ogni sera è una scoperta nuova sì 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 abbiamo avuto anche tre cinghiali per un mesetto due quindi preferisco la viscia se non so che cosa arriva preferisco la viscia ma riguardo invece ai viaggi proprio fatti apposta per fare osservazioni per esempio io sono rimasto innamorato del viaggio che hai fatto in Islanda sì viaggi apposta per l'astrofotografia sono sincero Italia principalmente perché io e Valentina andiamo sempre siamo sempre andati in vacanza o in viaggio alla ricerca più di aurore boreali e tutti i contesti al nord dove non andavamo lì per fotografare necessariamente il cielo le stelle o il profondo cielo ma per fotografare altri fenomeni che comunque ci incuriosiscono in Italia invece tanto perché vabbè la fotografia astronomica la si fa in postazione fissa come faccio io da casa ma anche in itinerante sono due forme della stessa disciplina molto diverse se vuoi perché quella itinerante magari la pratichi molto meno ma ti permette di aggiungere dei cieli molto puliti quindi di riuscire a produrre delle immagini spettacolari che a casa non farai mai in pochissimo tempo e quindi noi facciamo entrambe le cose quando c'è occasione per tanti eventi di poter fare un viaggio di poter ci spostare in Italia abbiamo visitato sì in effetti ci spostiamo abbastanza con l'intento astrofotografico ci sono ancora anche dei bei cieli devo dire Val d'Aosta Umbria insomma ci sono delle zone abbastanza isolate ovviamente la Sardegna è meno immediata da raggiungere però ci sono dei cieli decenti anche nella nostra bellissima Emilia Romagna super inquinata perché in realtà ci si ritaglia qualche spazio un po' isolato tra i monti e lontano dalle città si riesce ancora a vedere la Via Lattea all'estero appunto siamo sempre spesso andati alla ricerca o di vulcani o di aurore boreali quindi le altre due passioni che se abbandono l'astrofotografia mi metto a fare vulcani mi metto a fare vulcani bellissimo o l'aura boreale che comunque per quanto la vedi la rivedi in un migliaio di foto comunque non ti stanchi di andare a cercare perché lì come mi viene in mente guardate così sul momento l'osservazione solare quando fai con un telescopio solare l'osservazione in H-alfa che è una roba che supera di mille volte l'esperienza rispetto alla fotografia ecco per l'aura boreale è uguale non ti stanchi delle foto perché in realtà vai lì per esserci e vederla di persona nel profondo cielo l'esperienza è un po' diversa la fotografia tipicamente centra poco con l'osservazione visuale nel senso che proprio sono due cose molto separate quindi nell'astrofotografia non si parla di colori veri non troppo almeno o almeno se ci provi te ne penti dopo cinque minuti perfetto e mentre l'esperienza visuale che è bellissima lì sei davvero obbligato ad andare sotto un buon cielo però è una cosa è un'esperienza dove non vedendo i colori dove vedi dove si impara anche ad osservare in realtà perché è una anche quella è una pratica da imparare però molto diversa dalla fotografia astronomica e da quello che può produrre nei risultati fotografici ecco ti volevo fare una domanda perché prima hai parlato di moon and beyond non l'ho pronunciato bene mi scuso per il mio inglese appunto il progetto in cui parlavi della luna di queste immagini tra virgolette appunto editate in cui hai messo la luna e mi ha ricordato una vecchia conversazione che ho avuto con un mio amico in cui abbiamo un po' litigato perché questa concezione è differente tra il lato artistico di una foto e invece quella che per lui non è arte per me invece sì dell'astrofotografia ovvero secondo te quanto rientra nel lato nell'arte se vuoi possiamo dire il concetto di astrofotografia differentemente rispetto invece a quello che banalmente si fanno le mostre di arte legate alle foto quindi perché lui mi parlava di questa differenza di quello che ti vuole regalare l'artista che però dal mio punto di vista anche quando vai a selezionare un dato filtro quando vuoi fare un po' di editing legato a un'immagine quando vuoi regalare a chi osserva una determinata parte di quella tua di quell'oggetto stellare di quell'oggetto galattico per me anche quello lì rientra dentro il lato artistico di ciò che tu vuoi far passare sono sincero arte nell'astrofotografia per me 95% ok ottimo mi trovo pienamente d'accordo te lo spiego perché vedi l'astrofotografia amatoriale è un ambiente dove si dice che due astrofotografi riescono a fare tre circoli tre associazioni è vero si litiga un po' per tutto e le guerre sante sono un po' all'ordine del giorno e si rischia sempre un po' di fissarsi su robe che effettivamente sono un po' spesso delle sciocchezze sì 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 mentre insomma si può sempre trovare il modo di godersela e basta come esperienza che ti arricchisce e finirla lì allora io sono un fotografo e studio fotografia e il modo in cui fare il fotografo che se tu ci pensi un attimo fare fotografia significa come se dovessi imparare una lingua nuova capire come suggerire qualcosa al destinatario che osserva la tua immagine e che quindi non vuol dire scriverlo nella didascalia vuol dire farlo arrivare in un'immagine è lo scopo di Moon and Beyond no? cioè nel senso ok ti spiego qualcosa dove non hai non c'è bisogno che leggi la didascalia per capire che la luna probabilmente è in scala quando ne vedi dieci di fianco dove cambia la dimensione della luna e si è data ok allora premesso che nella fotografia astronomica Deep Sky il sensore che utilizzi non ha la sensibilità nello spettro che ha il tuo occhio quindi già dire i colori veri del io mi sono già perso all'inizio perché già ho perso un attimo il senso della cosa quindi non è assolutamente secondo me scontato dire questi sono i colori veri dell'oggetto ok o quantomeno resta una una certa possibilità di gestire la presentazione del soggetto nel momento in cui sai che inevitabilmente si scosta dall'esperienza che avresti visivamente poi in che modo cioè se fossi lì poi che è una cosa che è una frase che c'è spesso che cosa significa lì dove perché se io mi avvicino se io mi avvicino a una nebulosa mi avvicino troppo e non vedo più niente perché comunque sono gas diffusissimi non vedresti nulla se mi avvicino da lontano allora ci sono già adesso quindi che cosa significa se anche avesse un telescopio con un diametro molto grande la nebulosa la vedo in osservazione ma i colori comunque non li percepisco è tutto molto relativo secondo me allora alla fine dei conti la mia che è un punto il mio che è un punto di vista che non potrebbe essere più soggettivo di così non potrebbe essere più soggettivo mi interessava proprio secondo me la componente artistica è fondamentale perché premesso appunto che ci si scosta un po' nella rappresentazione di quello che strettamente si intende reale allora c'è la libertà anche maggiore di potersi concentrare su come poter creare uno strumento per vedere per osservare per trasmettere qualcosa al destinatario io ad esempio appunto cerco di lavorare proprio anche sulla mia dimensione artistica cercare di capire che progetti preparare per comunicare una certa cosa e quindi curo la fotografia astronomica esattamente come qualsiasi altro contesto cioè l'approccio allo stesso modo ok sì sì beh io vorrei infilarmi in questo discorso di traverso perché effettivamente è una cosa che mi sono chiesto anche io questa cosa qua e anche riguardo la fotografia il discorso proprio da fruitore di immagini astronomiche mi piacciono molto vederle e lo ritengo un po' come tipo l'osservare qualcosa che non riuscirai mai in modo assoluto a vedere tu con i tuoi occhi e quindi è una sorta di gusto dell'esotico effettivamente ti stanno dando un'immagine che tu altrimenti non riusciresti a vedere e quindi dal mio punto di vista viene lì la curiosità di di interessarmi a questo discorso che se ho curiosità ho anche cioè già questo porta una forma d'arte dal mio punto di vista se io ho una curiosità di vedere un'immagine di come è stata fatta del perché è stata difficile di che idea ha voluto dare quello che ha fatto l'immagine anche perché l'immagine la fa qualcuno non è che ti viene dal nulla quindi io sono assolutamente d'accordo su questo discorso e per me c'è tanto anche riallacciandomi al discorso di prima che facevamo che adesso molte più persone essendo esposte molto di più a tutto questo concetto dello spazio di immagini della luna di immagini del cielo eccetera si accende ancora questa curiosità di andare a vedere qualcosa che non puoi vedere di per sé non puoi vedere si accende ancora perché l'esperienza personale genuina originale tua ed è comunque sempre diversa da qualsiasi contenuto che puoi cliccare su google immagini e questa è una forma d'arte e poi è una forma d'arte io non voglio semplificare un discorso che essendo articolato e complesso scriverei io per primo chi semplifica le cose ecco è un discorso complicato però dico le ultime due robe allora intanto abbiamo una serie nella preparazione delle immagini una serie di regole più o meno scritte o comunque di accorgimenti per presentare ok un certo oggetto astronomico in un all'interno di un contenitore che non ti permette di fare tutto se io faccio una fotografia paesaggistica e ti presento gli alberi viola è chiaro che tu mi dici forse ti viene da dirmi ma perché hai scelto di mettere gli alberi viola però se ti presento delle foglie di un verde oddio dimmi le tonalità del verde che conosci verde verde scuro e verde chiaro ecco io mi tolgo da questa conversazione in quanto dal tonico quindi mi senti scosto se io te le presento se io te le presento con tre tonalità differenti di verde tu sei dall'altra parte che vedi solo la foto e nemmeno sai com'era nella realtà non ti sconvolgi particolarmente perché poi effettivamente rientra in un contesto credibile ecco io la vivrei solo semplicemente in questo modo quindi a seconda del tipo di immagine che si prepara alcune sono volutamente e intenzionalmente in falsi colori perché l'obiettivo è di mostrare altre differenze come vuoi ad esempio l'Hubble palette della NASA ok altre che spesso le si presenta con colori tra virgolette sto facendo così con le dita con colori reali in banda larga dove si è raccolta tutta l'emissione presente e intanto ripeto sempre l'emissione registrata da un sensore che ha una sensibilità un po' diversa ai nostri occhi se anche usassimo un sensore che bene o male imita le stesse sensibilità sulle varie frequenze ecco in ogni caso comunque è qualcosa che ad occhio faremmo fatica a percepire allo stesso modo quindi secondo me resta sempre una sottile libertà di poter presentare un'immagine che alla fine soprattutto forse la parte più importante che sfugge è questa non è un dato una misura che tu devi prestare alla scienza per essere studiata è un prodotto multimediale da osservare e che magari ti può dare qualche messaggio trasmettere qualche emozione ti deve incuriosire divertire perché corgetemi se sbaglio nella scienza se io voglio sono un po' più brutte le forze se voglio misurare qualcosa non devo arrivare a rappresentarlo nemmeno in un'immagine io misuro un dato un numero e ho forse stai parlando con la persona sbagliata perché non misuro perciò ho sbagliato anch'io non lo so in realtà soprattutto ad esempio in radioastronomia è richiesta molto spesso un'immagine quindi di solito c'è bisogno infatti è anche una domanda che ti volevo fare dopo è poi legata alla radioastronomia però di solito si collega perché comunque tu devi mostrare che cosa hai visualizzato come era fatto in modo tale che anche gli altri capiscano perché si ritorna sempre al discorso per definire una galassia ci sono 76 modi 76 divisioni quindi se tu dici ho visto una galassia di Seafert con una cosa in collineazione lui ti dice ok fammela vedere quindi tu gli mostri quello che hai preso però questo anche nell'X ad esempio cioè di solito il dato quello che si guarda di solito in un paper è l'app extract l'immagine della sua gente che tu hai osservato e poi vabbè le tabelle di dati che quelle servono ovviamente per tutto il resto diciamo che sì sono leggermente più squadrate perché appunto si va a utilizzare il pixel singolo per ad esempio nell'X o nell'ottico e poi adesso vedremo cosa farà James Webb sono abbastanza curioso abbastanza sì mamma mia ho visto l'ultima che hanno fatto vedere in cui era quasi tutto tarato con l'immagine paragonata a quella di Abbole impressionante proprio ci sono rimasto la domanda che invece ti volevo fare rispetto all'ottico che tra virgolette se vogliamo dire a parte che è entrata una parpaia parpaia in termini di all'età dalle pediglie è falena ti interesserebbe rispetto all'ottico andare a fare imaging andare a fare immagini nell'X o invece nel radio quindi tra virgolette i due estremi dello spettro ottico tantissimo ma è difficile l'accesso a motoriale quindi tantissimo ok in realtà alla fine fare imaging vabbè tralasciando le immagini del buco nero in cui lì ti serve il consorzio interplanetario ti serve tutto dietro però ad esempio i dati dietro quindi anche l'elaborazione dell'immagine molto spesso è gratis è gratuita cioè tutti in teoria possono scaricare quei dati lì e poi ti basta il software che non penso sia a pagamento no di solito in astrofisica i software base sono lasciati gratuiti si può fare imaging quindi potrebbe essere lo faccio perché tanto l'abbiamo fatto in laboratorio quindi mi ricordo qualche cosa casomai potrebbe essere interessante andare a vedere molto diverso ovviamente dall'ottico però mi interessava proprio allora organizziamo un incontro fuori dalla fuori dalla registrazione così mi spieghi bene che cosa possiamo combinare verso questa parte è una cosa molto interessante sì ma anche perché appunto in un'astrofotografia amatoriale che è sempre più diffusa e inflazionata e badate lo dico con la più la mia assoluta felicità promotore della diffusione dell'astrofotografia però è anche una mia ricerca quella di capire come poter presentare cose nuove anche quando le cose nuove di dieci anni fa oggi sono scontate e quindi anche questa idea cioè tutte le nuove idee fotografiche per me sono molto stimolanti e sono sempre la ricerca di nuove cose da fare perché è il modo per continuare a ispirare e infondere curiosità verso questa disciplina assolutamente sì un esempio è quello della supernova qual è non è Cassiopea è quella che ha osservato Chandra per la prima volta quella che esplosa nel 1500 la crab da embula ok la crab non mi tornava in mente che ad esempio l'hanno osservata prima nell'ottico ovviamente e poi successivamente in X con le ultime osservazioni di Chandra e anche quelli successivi in cui si vede proprio il disco di accrescimento quindi anche lì quando si vanno a sovrapporre le varie immagini nell'ottico X radio si vede proprio l'evoluzione completa della stella e in questo caso la morte di un oggetto che in termini astronomici è morto ieri neanche un'ora fa perché è morto 8000 anni fa in termini astronomici vuol dire nulla quindi è interessantissimo proprio riuscire casomai con l'astronomia amatoriale a entrare anche con immagini radio che secondo quelle lì sono gratuite sicuramente perché sono abbastanza vecchie e quindi potrebbe essere interessantissimo proprio far vedere cosa succede oltre alla sola parte sarebbe molto bello sarebbe ancora più bello poter acquisire i dati e lì chiaramente è lì che io mi allungavo alla così apparente difficoltà insomma è come un'immagine un po' difficoltosa e oggi telescopi anche magari insomma lì si può acquistare ma hanno costi proibitivi e poi non saprei cosa farne attualmente un radio telescopio montato non saprei usarlo quindi qual è l'immagine che sei più fiero di aver fatto il tuo progetto più bello o anche non so più progetti belli riguardo all'esperienza magari di averlo fotografato e anche al risultato finale mi prendi mi prendi molto molto alla sprovvista nel senso che sono legato a diverse immagini che sono tutte molto differenti tra loro e che mi hanno entusiasmato più che altro nel momento in cui le ho fatte per dirti a gennaio qua c'è anche Valentina anche se non si sente ma manca un ospite in studio a gennaio io e la Vale abbiamo fatto un timelapse inseguendo da casa con il telescopio il James Webb che si allontanava già tipo a 700.000 km ma per me è stato fighissimo cioè puntare un sassolino a 700.000 km e vederlo poterlo tracciare così fare un timelapse questo strumento che si allontana anche quello mi ha entusiasmato è difficile tecnicamente assolutamente no però non è che vada da ripari passo con la difficoltà la mia domanda non è la volta alla difficoltà semplicemente qualche immagine qualche foto che ti ha particolarmente fatto piacere anche dopo la post produzione quindi nel risultato finale di cui sei orgoglioso di aver tirato fuori l'anno scorso ho fatto una galassia triangolo che mi è piaciuta perché ho dedicato diversi crop diversi ritaglietti sull'immagine ai grandi complessi ionizzati H2 che sono nella galassia H2 non solo in realtà perché c'è un botto di ossigeno è stranissima comunque quella galassia veramente anomala io non ne capisco niente a livello astrofisico cosmologico non so come devo dire ma non posso rendermi conto di quali siano le differenze ma lo vedo semplicemente fotografando è assolutamente si parte proprio da quello l'astrofisica è nata da c'è qualcosa che non mi torna c'è qualcosa che non mi torna in quella galassia è ricchissima di idrogeno ionizzato condensato proprio in queste gigantesche zone di gas oltre che di idro oltre che ossigeno ionizzato oltre che di idrogeno questa immagine l'anno scorso mi è piaciuta molto farla perché appunto ho già iniziato a definire qualche forma niente di nuovo l'hanno fatta in mille ma quella era la mia definire le forme di queste grandi nebulose dentro un'altra galassia già ok un'altra contemporanea è stato un'immagine molto dentro ad Andromeda quando abbiamo montato un anno fa l'ultimo telescopione grande grande per un amatore che ha un diametro di 300 mm che comunque per un amatore è già un buon bacino di raccolta di fotoni ecco quindi queste due l'anno scorso mi sono piaciute molto quest'anno a inizio mese due o tre settimane fa abbiamo fotografato un evento di supernova ce ne sono diversi anche fotografabili e quindi sono sempre eventi molto belli sempre molto inimmaginabili per me pensare che una sola stella questa ha superato di gran lunga la magnitudine della sua intera galassia voglio dire è una roba folle da immaginare però non sono lì ok meno male siamo distanti quindi sì ci sono tante fotografie e ovviamente anche la mia prima testa di cavallo bruttissima ma forse quella che mi ha dato più emozioni da allora oggi però mi ricordo un video che hai fatto appunto parlando della demulosa testa di cavallo in cui hai fatto vedere l'evoluzione in cui hai fatto proprio partendo a me è piaciuto tantissimo uno perché a mio parere rispecchia tantissimo il pensiero scientifico proprio lo sviluppo della scienza ovvero provi fai un tentativo non ti piace casomai non rispecchia la realtà se vogliamo per una teoria scientifica ritenti migliori approssimi e tutto in realtà quello su cui si sviluppa l'astrofisica l'astrofotografia anche in questo caso ho visto una convergenza diretta questo mi è piaciuto tantissimo perché appunto mi ci rivedo mi rivedo tutta la comunità scientifica che tenta di scoprire i misteri attraverso errori banalmente qualcosa che non ti piace o che non torna completamente con la realtà prima abbiamo parlato invece del tuo osservatorio Karl Sagan e ti volevo chiedere uno quanto ha influito lui e due quanto anche la la fantascienza il suo complesso può aver influito o quanto ti può piacere la fantascienza in ambito astronomico allora parto da questa la fantascienza ha influito totalmente per me io sono un nerd di quelli proprio irrecuperabili e quindi sì credo di aver visto qualsiasi film di fantascienza prodotto con un minimo di dignità ok dal 1902 in avanti e quindi no la fantascienza ha inciso moltissimo dai fumetti ai film ai telefilm ai libri qualsiasi cosa sì ai videogiochi anche perché no perché comunque parte lo stesso da un fascino per il cosmo che c'è già inevitabilmente evidentemente e Karl Sagan ha da 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 bimbo un po' più grande inciso altrettanto più che altro sul mio percorso divulgativo la fotografia astronomica la parte divulgativa della fotografia astronomica è stato un percorso fino adesso di alti e bassi beh poi il momento in cui ci si mette a fare divulgazione in epoca social network c'è anche un po' da scappare no? c'è da scappare ecco allora non lo so io per adesso che ne so forse perché non ho detto ancora mai il mio nome in questo podcast quindi me ne sto banalmente fuori possiamo fare potrebbe essere l'occasione tanto io bippo poi bippo poi tutto il mio nome è già stato bippato due o tre volte per colpa sua perché lo va andare mi hai spaccato le orecchie tra l'altro con quei bipp la prossima volta no scusa hai il dito sul bip io lo sto vedendo però però io non l'ho vista così male almeno per quel piccolo specchietto per quella piccola finestra che ho io che uno lo conosce anche Luca Narti sì grandissimo appunto mi è sembrato in realtà molto collaborativi gli uni con gli altri tipo uno ha ascoltato per caso un podcast questo podcast ha chiesto una collaborazione ho detto sì già non sono nessuno va bene facciamo non lo so non sono completamente d'accordo ho tantissime collaborazioni poi divido la maggior parte tutto il segmento divulgativo lo divido con Valentina quindi abbiamo tantissime collaborazioni è un percorso meraviglioso non privo di ostacoli quello sì quando quando si è su quando ci si presenta su Shoshone Network beh ti direi oggi sai già prima quel che peschi io non no non ne avevo assolutamente cioè non l'avevo idea in realtà nessuno lo sa no non ne avevo no in realtà non lo sapevo allora ecco devo dire che in tutto questo alla fine resta un percorso comunque che ti insegna sempre tanto anche della vita e quando hai delle difficoltà in un percorso di questo tipo è proprio l'occasione dove capisci ancora meglio il percorso che vuoi fare tu e quanto è importante magari il modo in cui lo hai fatto fino a lì e quanto sia importante continuare a farlo allo stesso modo e Carl Sagan che si è sempre espresso così tanto su tutta l'etica su vogliamoci tutti bene il blue dot il blue dot ecco ha sempre rievocato in me un po' quella come dire cresciuto da una famiglia cattolica a fantasy di Tolkien ok ecco inevitabilmente quando ti presenti un po' al mondo da grande ti aspetti che vada tutto bene tutti amici sia tutto tutto sia basato su delle fondamenta salde di principi amicizia onestà ecco ok ho avuto no va bene ok Carl Sagan ha sempre adesso noi stiamo scherzando però Carl Sagan ha sempre spinto tantissimo sulla sulla astronomia portata alle persone allo scopo di unire e ogni tanto ci sono delle occasioni anche da divulgatore dove si incontrano delle situazioni con persone che puntano più a dividere che a unire questo capita sul lavoro capita al circolo di amatori capita in qualsiasi contesto no e nella divulgazione per me Carl Sagan è stato fondamentale perché mi ha sempre ispirato ricordandomi facendomi vedere facendomi capire quanto sia importante che questa questa nostra disciplina possa unire e possa aumentare la coesione sociale e anche sui social network ci provo a portare e a condividere soltanto contenuti che vadano potenzialmente a creare coesione o siano così propositivi no mai a suddividere mai a dividere ecco per questo mi ha ispirato sempre molto lui e poi in generale un professionista come non sono io nell'ambito astronomico che ha saputo anche mantenere se vuoi l'umiltà e anche l'interesse a voler per tutta la vita spiegare cose anche complicate che poteva benissimo spiegare alle persone più comuni anche quello è un grande segno di di umiltà e di mettersi a disposizione degli altri che mi è sempre piaciuto molto quello mi ha ricordato un episodio che è successo in una delle domeniche che facciamo per le famiglie in cui facciamo fare dei lavoretti ai bambini in cui c'è un genitore che un po' si vergognava mi è venuto a chiedere che cosa rappresentasse la foto del buco nero io senza rendermene conto purtroppo lì ho un attimo sbagliato gli ho fatto mezz'ora alla lavagna e gli ho disegnato vari modelli gli ho finito per fare non rida allora c'erano ancora i bambini quando si si no ovviamente i bambini mi chiedevano due giorni dopo i bambini mi chiedevano una mano per fare il lavoretto e ho detto si un attimo lasciati lì si si è stato un attimo io e i genitori alla lavagna spiegavo e in realtà poi tutti gli altri però è interessantissimo soprattutto una cosa che dice anche Cassagano ovvero le domande che ti fanno a me quello lì è bellissimo perché mi danno vabbè oltre all'occasione di parlare di un argomento che mi piace la libertà le domande che ti fanno che sono sempre più profonde rispetto ad esempio a un aula universitaria in cui casomai ti puoi indagare perché il denominatore ha un esponente alla quinta invece che alla quarta che ok te mi stai già guardando male perché sono le tue cose questa è la quinta la quarta tre quattro dimensioni però però mi piace più raccontare quella cosa lì perché vanno a toccare dei meccanismi estremamente alla base di cui ancora non sappiamo nulla proprio beh a una serata divulgativa a me a Valentina un bambino ha chiesto se i buchi neri muoiono pensa alla mia faccia pensa alla mia faccia con una domanda così ma i buchi neri muoiono due giorni dopo due giorni dopo ero ancora immobile continuavo a sudare ti ha portato via col carretto perché da lì non ti muovevi quello è un ictus immediato è istantaneo comunque no è questo guarda anche tornando al discorso dei colori della realtà abbinata applicata all'astrofotografia il motivo per cui io tendo non per semplificare le cose ma proprio per scelta a volermela vivere a volte un po' bene no è proprio la ragione per cui un po' tutto il nostro progetto divulgativo ma anche le mie fotografie continuano e penso continueranno sempre un po' a rivolgersi a un pubblico non molto specializzato possibilmente abbastanza inesperto dal punto di vista astronomico perché è lì che inneschi la curiosità lo stupore genuino di chi non ha mai pensato magari fino a una certa età di guardare un telescopio a luna fa per la prima volta e ci rimane ci rimane scioccato questa è una cosa molto bella che apprezzo proprio il quello che sta dicendo il vostro progetto divulgativo mira a fare questo e poi te lo spiegherò off live perché sì no cioè il fatto semplicemente che la mia parte la parte che mi interessa è quella cioè non è aver ragione in una disputa con termini e parole che nessuno dei miei amici saprebbe riconoscere tra l'altro perché io mi immagino sempre i miei amici là fuori che mi guardano con gli occhi stranati mentre parlo di quella cosa piuttosto che quell'altra cosa no ho ragione io e con loro che mi direbbero ma siete scemi tutti e due di che cosa state parlando il mio interesse anche quello di Valentina rimane a parte il fatto che gran parte del progetto è rivolto ai bambini ma al di là di quello anche per anche sugli adulti verso persone che all'astronomia magari non ci hanno mai pensato che il cielo non l'hanno mai guardato che vivono magari in un posto dove di notte c'è la stessa luce che c'è di giorno e quindi al massimo vai a bere a ballare che sono cose che facciamo tanto anche noi ma c'è una parte in più che ti può ricollegare a un ambiente naturale bellissimo che magari ci siamo un po' dimenticati e che ti può dare accesso a come dire allargare un po' gli orizzonti a renderti un po' più conto globalmente di quello che ci circonda di quello che abbiamo intorno e tutto contribuisce secondo me a rendere più vivibile la nostra quotidianità a scalare un po' le nostre ansi i nostri problemi esatto rendere tutto più piccolo per me l'astrofotografia è stata questa esperienza qui e quindi è quella che cerchiamo di raccontare e quindi mi interessa molto di più raccontarla a chi non ci ha mai pensato quello lì per me stessa cosa con l'astrofisica proprio mi ha ridimensionato cioè banalmente mi ha fatto capire ok calma un attimino andiamo sul ho visto che te hai ripartito ah no niente ok no allora guarda noi ti abbiamo tenuto qua un'ora e quattro quindi io direi salutiamo se te tipo hai un mi lasciamo fare un giro di saluti e poi chiudiamo la puntata se volete salutare i nostri ascoltatori beh grazie di riavermi invitato qua qua esatto in live in presenza ha di nuovo il dito sul bip no perché dopo mi tocca scrivermi in minutaggio riascoltarmi tutto e andare a bippare io non ne ho voglia e grazie a Luca soprattutto per aver accettato questa pazzia grazie a voi è stato un bellissimo evento un bellissimo invito ringrazio anche tutte le persone che ci stanno ascoltando fate astrofotografia comprate un piccolo telescopietto ai vostri bambini ma basta un binocolo va bene comprate un piccolo comprate un piccolo binocolo scusaci è un po' più cioè sì beh va bene va bene sì l'una o l'altra cosa fatevi vedere la luna anche a occhio nudo quello è importante ma fate qualcosa per favore benissimo e con questi saluti noi ci salutiamo anche noi io vi invito sempre ad andare sulla pagina del planetario seguirci sui social seguire anche Luca e anche Samuele seguitelo caso mai posso mettere i suoi dati anche il codice fiscale dove abito la via esatto per se volete andare a cercare e io invece vi invito a venirci a trovare per le iniziative al planetario noi ci sentiamo la prossima settimana con l'ultima puntata della stagione ciao